Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, una puntata, quella di quest'oggi, dedicata a questa maretta elettorale. Sapete che i primi di giugno, deve essere ancora ufficializzata la data, si voterà anche a Taranto per il rinnovo del Consiglio Comunale. E allora avremo tutta una serie di puntate che ovviamente ci faranno vivere in presa diretta un po' il clima che ci porterà all'elezione del nuovo sindaco e del nuovo Consiglio Comunale. Quest'oggi siamo presso il BB Albergo Labanna, siamo appunto a Taranto, nella struttura splendida, meravigliosa di San Vito, un ambiente, una location estremamente confortevole, elegante per ogni esigenza e per ogni gusto. C'è da dire che poi abbiamo la padrona di casa, Irene Lamanna, che ci ha voluto omaggiare con queste delizie, con questi aperitivi, anzi apericena, come si dice al nord, vedete come è imbandita la tavola. Ma al di là di queste premesse culinarie, enogastronomiche, andiamo subito a salutare i nostri ospiti. A partire dal dottor Tommi Lucarella, segretario cittadino di Taranto del Partito Democratico. Tiziano Ricci, espressione della società civile, lui è il rappresentante di Casa Artigiani Taranto per quanto riguarda il settore alimentare. Buonasera a tutti. Nicola Catania, segretario cittadino di Forza Italia per la città di Taranto. Buonasera. Un gradito rientro a Polifemo, il dottor Giuseppe Varlaro, qualche anno fa era un opinionista fisso da noi, e lui è un uomo di destra, di quella destra come l'ha definita lui dura e pura, e sentiremo anche dal suo angolo visuale le prospettive, anche le delusioni, le amarezze, come va la vita in politica. E dulcis in fundo, last but not least, il dottor Giuseppe Lessa, candidato sindaco. E allora, quindi varie realtà presenti. Partiamo dal dottor Tommi Lucarella. E allora, diciamocelo, nel PD c'è un bellum omnium contra omnes, una guerra di tutti contro tutti. In un primo tempo il candidato imposto da Pelillo Baldacconi fallisce questo diktat di Pelillo, non trova proseliti, anzi, si inaspriscono le polemiche, nasce un vespaio sul nome di Baldacconi, si ricercano altri nomi. Si parla di tale Melucci, dello Union Shipping Consortium, nel frattempo si crea una conflittualità estrema, inaspettata, imprevedibile, tra Pelillo e il suo figlioccio, la sua creatura Gianni Azzaro. Pelillo politicamente rinnega Azzaro. Insomma, nel PD, diciamocelo, c'è un grande caos e la tensione c'è. Forse si stempererà, ammesso che si riesca a trovare un nome che, quantomeno, sia digerito da tutti. Intanto la ringrazio perché, Lucarella, in questo momento del PD, metterci la faccia, come ha fatto lei, è un gesto di responsabilità. E la ringrazio sinceramente. Ringrazio voi perché ci invitate, avete talvolta tutti quanti voi la pazienza di poter ascoltare, non solo me, ma tutte le forze politiche. In un momento in cui, io penso, la città di Taranto avrebbe bisogno di ascoltare le forze politiche, ma di chi governa e chi non governa la città, al fine di farsi un'idea rispetto al futuro prossimo, che certamente, come hai detto tu, scade all'11 giugno, la data presumibile per le elezioni amministrative del Comune di Taranto. Io vorrei subito dire che, intanto, nel PD vi è una situazione, ovviamente, di grande confronto anche democratico, che i nomi che riportano all'interno delle varie testate giornalistiche, che ogni giorno, diciamo, che riportano le varie testate giornalistiche, sono nomi, ovviamente, che sono dettati, ma da un confronto che vi è, molte volte esce il nome, non volendo da parte nostra, anche, molte volte sono anche dicerie, ma è giusto che ne escono, perché vuol dire che vi è un confronto aperto. Voglio precisare che, non a difesa, perché non ne ha bisogno da parte mia, che l'On. Pedillo non ha mai imposto nominativi dall'alto. Ha caldeggiato fortemente. Non è che ha preso una pistola e ha detto, dovete candidare Val d'Accusi, mancherebbe. Giusto, non ha imposto, però chiaramente ha condiviso all'interno di un percorso, anche del PD, forse non con tutti, ma l'ha condiviso con la maggior parte del gruppo dirigente, alcuni nominativi, che poi sono quelli che sono apparsi sulla stampa, sulla bocca di tutti. È chiaro che ci troviamo in un periodo un po' particolare per il PD, con le elezioni, la scelta della candidatura a sindaco, la formazione della lista, il congresso nazionale, tutto questo, insomma, in un momento che certamente ogni cosa che ho detto prima merita la propria attenzione e l'attenzione giusta. I nomi che escono, però, per quanto ci riguarda, non esistono. Quei nomi lì vengono portati al tavolo del centro-sinistra, del centro-sinistra tutto, che può andare dall'Udc, compreso, alla sinistra italiana, poi chi può sfidarsi lo fa per proprie legittime convinzioni o per altro, però deve essere condiviso all'interno del centro-sinistra tutto. Si parla di alcuni candidati del Partito Democratico, si parla di altri candidati che abbiamo letto sulla stampa, di altre forze politiche. Tutti i candidati sono utili quanto necessari per cominciare a discutere sul nominativo che deve rappresentare l'intera coalizione. Ok, una battuta. Finora però i candidati su cui è caduta la scelta sembrano essere stati dannosi, tra virgolette, per l'unità del partito. C'è una conflittualità, è inutile negarlo. Ma ce ne sono anche altri, di altre forze politiche che non sto qui a dire. Io ho saputo che in Assemblea i toni sono stati durissimi, non duri. Sì, non ci sono stati... Duri, duri, duri. Momenti anche di tensione che si tagliava a fette. Chiaro che ci sono stati momenti di tensione, forse quei momenti che servono, ecco, anche per stemperare determinate cose, anche perché il confronto, anche duro, serve per farsi capire tra i soggetti interessati le posizioni. Però, questo mai nulla contro la persona, è solo ragione politica. No, politicamente. Tiziano Ricci è il rappresentante, il presidente della categoria alimentare di Casattigiani Taranto, una tradizione familiare ovviamente nel settore, nel settore della ristorazione, nel settore... chi non conosce Ricci Pizzaioli. Ricci è tornato in Italia e ha detto io non posso vedere abbandonata la mia città. Tante iniziative Ricci, tante... anche momenti vivaci, no? Di prendere posizione rispetto a certe stranezze, a certe ingiustizie che venivano perpetrate. Poi, lei... ecco, forse non se l'aspettava questa domanda, questa che lei stanno facendo. Si avvicina, è uno dei fondatori del movimento La Scelta, si avvicina con entusiasmo, tac, il rapporto si interrompe. Cosa è successo Ricci? Ha disconosciuto La Scelta? Fatta? No, vabbè. Io non amo parlare... Sono una persona molto corretta, quindi non amo parlare di persone che non sono qui. Come hai detto bene, io ero uno dei soci fondatori del movimento... Insieme a Floriana De Gennaro. Esattamente. Ci sono state delle incomprensioni fra di lei e all'interno del movimento, e ho deciso che non rispecchiavo più i miei ideali e mi sono di buon grado dimesso dal movimento. Oltretutto, oggi fra l'altro, ragion più importante, per cui non amo parlare di questo problema, perché è successa una cosa grave proprio alla signora De Gennaro. hanno dato fuoco all'ombrellone di Piazza Carmine, che non reputo assolutamente che sia qualcosa riconducibile a discorsi politici, anche perché non rappresenta nessuna figura istituzionale. Quindi non credo... Anche perché io ricordi non è mai successo nulla del genere a nessun candidato sindaco. Non può aspettarsi se uno ricopre una carica. Esatto. E il discorso è che c'è un momento in questa città di grande illegalità, ci sono tanti atti criminosi che stanno avvenendo. Non scordiamoci le ultime esplosioni ad alcune attività commerciali importanti, anche come la PGS, come altri esercenti, e quindi credo che sia un qualcosa... Certamente i PGS non erano candidati. Appunto, però... Diciamo che gli inquirenti poi faranno il loro posto, le indagini appureranno, ci auguriamo. E comunque va la nostra solidarietà per un gesto davvero inqualificabile. Ma io infatti, a prescindere da quello che c'è stato con la De Gennaro, sono un commerciante comunque sia, quindi massima solidarietà. Lei ha espresso un certo apprezzamento sui social, in alcuni suoi interventi, per la candidatura della Baldassare, di quello che sarà sicuramente il candidato del centro-destra e di un'area, diciamo, più ampia della società civile. Sì, io ho avuto nei giorni scorsi dei contatti con la dottoressa. Cosa l'ha colpita? Cioè, qual è l'aspetto che... Io sono un ragazzo che, oltre ad essere commerciante, sono cresciuto anche in mezzo alla strada. Non vengo sicuramente dagli alti borghi, quindi frequento il bello, frequento il brutto, vivo... È un uomo del popolo. Vivo Taranto ovunque. E sinceramente se ne parla bene un po' dappertutto. È una cosa che mi ha colpito, che non è usuale parlare bene tutti sempre di una persona. Quindi mi ha colpito questa cosa, ho deciso di sostenerla e lei mi ha rivolto i suoi apprezzamenti. Tutto qui. Ok. Nicola Catania, segretario cittadino di Taranto per Forza Italia. Abbiamo parlato del candidato sindaco in pectore. C'è un'idea, quella di allargare la coalizione di centro-destra anche alla società civile. Si era parlato anche di non impiegare eventualmente i simboli. Proprio a voler dimostrare che è un qualcosa che prescinde dalla appartenenza politica, ma è un discorso più ampio. Qualcuno dice malignamente, forse Italia non vuol far ricordare il dissesto e non mette il simbolo? Ma assolutamente no. Forza Italia intanto non è stato deciso assolutamente nulla. Nel senso che noi valuteremo con attenzione anche la questione dei simboli, perché ovviamente adesso non bisogna discriminare al contrario la politica. Io credo che invece in questo momento la politica stia avendo un atteggiamento abbastanza prudente, nel senso che ovviamente comprende la situazione, comprende questo disinteresse, questa rabbia che i cittadini in generale, ecco non solo a Taranto, hanno nei confronti della politica. che è la politica opportunamente sta seguendo un percorso prudente, un percorso anche ragionato, nel senso che non succede come le altre volte generalmente, o diciamo come è costume di queste competizioni elettorali locali, che la politica diventa protagonista, ma questa volta la politica fa, diciamo non un passo indietro, ma assume un atteggiamento, ecco guarda, si guarda intorno, e noi lo stiamo facendo con molta attenzione, nel senso che guardiamo con interesse anche queste persone che si propongono, che hanno anche il coraggio di proporsi, perché bisogna dire anche questo, ci vuole tanto, tanto coraggio a proporsi. Soprattutto in un momento in cui, credetemi, fare il sindaco di Taranto significa caricarsi una cruce enorme. Assolutamente, assolutamente. Per cui noi guardiamo con interesse e con rispetto tutti i nomi di questi candidati che intanto si stanno proponendo, perché abbiamo avuto sempre un'idea, noi come Forza Italia, e perché abbiamo sempre ragionato nei termini di elevare qualitativamente la politica in questa città. Abbiamo necessità di una classe politica qualitativamente migliore, che possa affrontare le problematiche che ci aspettano, e che le possa affrontare al meglio. Quindi riteniamo che ben vengano queste persone, non solo come candidati sindaci, ma anche come si propongono al Consiglio Comunale, espressioni, un termine che a me non piace, perché non è che io non sia civile, perché faccio politica, della società civile, ma lo usiamo tutti, quindi lo continuo a usare pure io. Ma voglio dire, per quanto riguarda il discorso della candidata, è sicuramente, concordo con l'amico, una persona molto seria che noi guardiamo con molta attenzione, però evidentemente anche questa valutazione dovrà essere fatta in sede di tavolo del centro-destra, dove sarà uno dei nomi che noi ovviamente proporremo, poi ovviamente nella pluralità, come diceva l'amico, ascolteremo anche eventualmente dovessero esserci altre proposte, poi ovviamente valuteremo. Chissà se ci saranno i fittiani di direzione Italia, chissà. Ma io credo che alla fine con i fittiani troveremo anche un accordo, in politica voglio dire, si parte sempre da posizioni diverse, per poi, dalla politica dall'altro, per poi arrivare a una convergenza, sicuramente noi faremo anche questo passaggio con loro e potremo trovare anche una convergenza unitaria. Dottor Giuseppe Marlaro, Cico per gli amici, ortopedico, apprezzato, stimato ortopedico, presso la struttura ospedaliera Santissima Annunziata di Taranto, ma al di là di questa sua attività professionale, lei, la ricordiamo come, da tempo ho fatto tempo, ecco, la ricordiamo come opinionista polifemo, ma ha tentato anche varie avventure, sempre nel solco della destra, destra-destra, non centro-destra, lei si è candidato, lei si è candidato alle scorse comunali, con AT6, poi ha avuto una certa simpatia verso i 5 Stelle, c'è stata poi l'esperienza, ebbè mi sono documentato, ma io seguo tutto, poi c'è stata l'esperienza con Salvini, diciamo che, sempre fuori dagli schemi, un po' ascoltando quella che è l'antipolitica, però ci sono state delusioni. Io non sono politicamente corretto, come avrete capito, e credo che, da quello che ho sentito fino adesso, credo che ci si possa vergognare, in un certo senso, della mancanza di amministrazione, per dieci anni, di questo sindaco fantasma, sindaco dell'isola che non c'è, non c'è mai stata, ci si debba, infatti, io nel web, ho preso un bellissimo nomignolo, non lo chiamano Ippazio, ma Pupazio, con le sue marionette, e non c'è neanche da ridere sul Pupazio, perché ha drammaticamente portato questa città al collasso totale. Questa città è diventata, lo scrissi in un articolo, il deserto dei Tartari, complice il PD, complice tutti quelli che l'hanno appoggiato e l'hanno tenuto fino adesso. Questo preambolo, perché? Perché lui doveva essere gettato fuori a calci da tanto tempo. Questo preambolo, perché lo dico? Perché ci troviamo dopo dieci anni di non governo a non avere nessun uomo politico valido di nome, di spessore, in questa città di Melma. Perché la Melma... Per non dire fare una volta... No, appunto, non le voglio dire, ma... Di Melma, di... Prossimamente su questi schermi... Di palude stagnante. Certo. Perché a un certo punto si è... E ho scritto un altro articolo. Forse a questa città va bene vivere senza nessun controllo. In modo che il malaffare possa progredire, possa dare vita a malaffare ancora. Comunque, io sono convinto che è un momento, penso che tutti lo possiate condividere, momento tragico della nostra Italia e soprattutto della nostra Taranto. I mali di Taranto li conoscete tutti, è inutile che vi li stia dire. e poi vorrei dire qualche parolina sull'Eni, perché... La diremo dopo. Se la diremo dopo. Ora, il problema è che tutti questi, detto alla De Luca, che a me piace molto, pur essendo di sinistra, questi personaggetti, che sono stati... Sulla vicinanza tra De Luca e la legalità... Sì, a me piace molto per... Non ci siamo tanto. No, sulla legalità no, però... Perché è un po' borderline. Certo, però... Quando poi c'è il nepotismo, i figli che devono entrare in Parlamento... Adesso non conta più il discorso di quello che uno, se è legale o non è legale, conta quello che ha fatto uno. E De Luca ha trasformato Salerno, che era una città veramente, forse peggio di Taranto, l'ha trasformata in un'attrazione pubblica con milioni e milioni di visitatori all'anno. Quindi, cosa si può dire di De Luca se non meno? Ma io non volevo parlare, fare la paneggirica di De Luca, volevo dire soltanto che sono personaggetti fino a questo punto, fino a questo momento. Varlano poi nei prossimi interventi ci racconterà cosa è successo con Salvini. Sì, va bene. Le hanno sfilato il giocattolo di mano? Chissà. E ora è il momento del dottor Giuseppe Lessa, ha deciso di candidarsi sindaco, farà corsa a sé, evidentemente non si è trovato un accordo con le coalizioni. No, no, non è presto ancora. Come dicevano gli amici, questa è una fase di studio, una fase di programmazione, una fase di proposizione, proposizione che sicuramente nel tempo andrà poi a, mi auguro, andremo un attimino a, a conciliare le varie, le varie, le varie, le varie supposizioni, le varie idee, affinché possa lasciare un gruppo di dirigenti che veramente possa, possa lavorare su questa città, possa fare che è quello che in questo momento, in questo periodo, come giustamente diceva l'amico qua, si è fatto, non si è fatto, si è fatto molto poco. Alla base di tutto ci deve essere per forza della discontinuità con il passato, perché il passato purtroppo ha dato, ha dato e sta dando ancora, finché non finisce un sacco di problemi a questa città. La gente, chi cammina per strada, chi parla con la gente, ascolta e sente veramente, sotto ogni aspetto, sotto ogni profilo. Quindi questo gruppo di amici con cui stiamo lavorando ha cercato, ha sperato di creare un gruppo di moderati, moderati tarantini, perché poi, essendo tale, la speranza era quella, sia di società civile, mai dire mai però. Ma infatti, la speranza è l'ultimo a morire, diceva, no? Ma la speranza è finalizzata, non raggiunge un risultato personale o di gruppo. Io ho, il tentativo è creare un gruppo di lavoro, vi ripeto, che abbia l'esperienza di poter migliare le condizioni di vita sociali di questa città. Come stavo dicendo prima, girando per le strade, per la città, o anche nel mio stesso ufficio, anzi, ancora per poco, perché fra due mesi va di infezione, quindi sarò ancora più, e così potrà darsi... avrò più tempo e più possibilità, dedicarmi, diciamo, ai problemi della gente. Ecco, il mio ufficio, nel quale ho avuto sempre le mie porte aperte, ogni giorno vengono decine, decine di persone a propormi, a chiedere soprattutto una mano a cercare di migliorare le condizioni di vita di questa città. Io mi auguro che in questo mese, in questo tempo che ancora manca per la definizione delle liste, si possa arrivare veramente a un gruppo forte, a un gruppo che possa mettere in atto la propria esperienza, siamo finalizzati, ovviamente, a riuscire ad avere delle possibilità di migliorare, diciamo, la vita dei nostri concittadini. Bene, ora ce ne andiamo in pubblicità, al rientro, la seconda parte di Polifemo, ripartiremo da Lucarella, perché vogliamo capire un po' perché il PD sembra distante dalle esigenze della gente. Una volta c'era la sinistra vicina al popolo, ora invece questa sinistra sembra sempre più radical chic, è sempre più distante. Pubblicità. Rieccoci, dovremmo dire in studio, no, presso il BB albergo La Manna, questa meravigliosa struttura, sita a San Vito, Taranto, ringraziamo vivamente la padrona di casa, Irene La Manna, che io sinceramente, Lucarella, io vedrei bene come candidato sindaco. Visto che il PD, lei certamente non è di centrosinistra, però, visto che c'è questo appello di Costanzo Carrieri, io su Facebook scriverò io propongo Irene La Manna. Forse Pelillo prenderà una scarpa e me la lancerà contro, ma chi se ne frega. Dove dovrei dire alto, ma mi fermo qui. No, no, e dobbiamo ringraziare... Conosco molto bene, quindi... Dobbiamo ringraziare perché guardate come ha imbandito la tavola, guardate un po' con questi stuzzichini, con questi aperitivi al nord, quando io vado spesso a Torino lo chiamano la pericena, qui a Taranto non esiste questa abitudine. Pensavo alla peri Juve. No, quella è l'iper Juve. Lasciamo stare, c'è il Barcellona che mi preoccupa, lasciamo stare. Però, dicevo, ecco, guardate l'ospitalità e la familiarità, oltre che l'eccellenza e la qualità della struttura. Ma al di là di questo, ringraziamo veramente questo BB Albergo Lavanna e la casa di Polifino. E allora, Lucarella, dicevo prima dell'interruzione pubblicitaria, una Sinì, un PD che dovrebbe essere storicamente storicamente vicino vicino ai lavoratori, vicino alla classe operaia, vicino alle classi sofferenti, e però c'è questo distacco. Forse anche Renzi, l'arroganza di Renzi ha prodotto questa cesura. Si tratta di dover ricostruire il contatto con la base. Io penso che, guarda, con tutta la sincerità possibile, penso che noi non abbiamo, guarda, lo dico in maniera molto sincera, Beato lei che non se ne rende conto. No, aspetta un attimo, se mi fai finire. Sì, sì. Io penso che la maggior parte di noi non hanno perso il contatto con la base, che comunque, come dice Pino, e io condivido, ma come dicono anche gli altri amici qui vicino, ognuno di noi comunque cammina per la strada, va nel boss, va al cinema, da qualsiasi parte e incontra tantissima gente. Condivido con gli amici che sono qui presenti, il fatto che comunque ci sono state, perché non dirlo, perché sennò sembra che ognuno di noi può avere il prosciutto davanti agli occhi, non dice poi la verità, vuol dire che non si confronti in famiglia, non vede quello che accade, quello che c'è. Sono state fatte delle cose dell'amministrazione uscente, certamente sono state fatte delle cose positive, perché le ha volute vedere positive, talvolta non sono state comprese per quelle che sono state le cose forse non fatte bene, a detta di altri. Io penso che il Partito Democratico a livello nazionale e a livello locale ha dovuto, si scontra ovviamente, perché anche lo di semplice fatto è di essere stato ed è ancora forza di governo. Certamente, sia nell'amministrazione comunale, forse doveva cambiare passo in alcuni momenti e non è stato fatto, possiamo anche riconoscerlo. Forse doveva far sentire di più la sua voce perché doveva essere più vicina alle istanze dei cittadini, ma molte volte si sa bene che anche chi governa deve dire talvolta di no e qui, che ha governato prima per tanti anni, mi cura me ne può dare atto perché, ma anche Pino stesso, è che è stato alla guida della città, sa bene che molte volte bisogna dire dei no quando è sì e dei sì quando invece dovrebbe essere no. Certo che la situazione Tarantina non era delle più facili al tempo, forse non la si lascia nella giusta maniera, qualche lavoro però è stato fatto, lo si nota, ma venendo qui ho notato una cosa, ma l'ho vissuta, la vivo in prima persona, io, anni, decenni, lustri, che non si faceva quel rondò in fondo qui a Via di Ionio, è stato realizzato. Poca cosa, sicuramente, rispetto alle innumerevoli cose di questo territorio di cui mi onoro all'avere fatto il Presidente di questa circoscrizione, cioè li ho vissuti in prima persona, li ho vissuti anche talvolta a malamente in prima persona queste situazioni qua e l'ho combattuto anche io, talvolta questa amministrazione comunale che ci governava perché appunto intendevo ciò che dicevano gli amici, cioè venire contro alle istanze dei cittadini, a livello nazionale ovviamente il Partito Democratico anche lì ha scontato un determinato modo di governare, talvolta non capito, talvolta non recepito, certo Renzi hai ragione tu, una persona che nella sua giovinezza molte volte è sembrato ai più era partito bene come rottamatore poi alla fine chiaramente tu sei bene che molte volte bisogna dare e chiudersi dare e chiudersi e quindi molte volte anche gli accordi fatti talvolta anche con il centro-destra sono andati in una certa maniera anche perché bisognava governare a 360 gradi ma Renzi è una persona che ovviamente viene da un percorso diverso dalla politica vecchia quindi non preferiva e non preferisce fare accordi con nessuno ma andare avanti per la sua strada per quella che doveva essere forse la volta massima. Comunque, secondo me gli è convenuto la scissione gli è convenuta perché tranne Emiliano si è tolto i politicamente rompiscati dispiace per alcuni rompiscati ecco come ti dice non mi permetto di dire appunto politicamente per alcuni rompiscati che sono andati via perché chiaramente bisogna stare dentro e fare tutte le battaglie sia qui a partire dal basso quando la fanno verso di me o a partire dall'altro quando la fanno verso Renzi e allora vedevo Catania che facciamo parlare Catania prima di dirige così abbiamo un dialogo è il turno di Catania io volevo fare un altro tipo di ragionamento quello che io contesto all'amministrazione uscente è la mancanza di idea di progettualità di cosa aveva sognato come città come la intendeva come città nel senso che si è andata avanti a piccolissimi spot lo sforzo che adesso noi chiediamo e lo chiediamo anche a chi ci può dare una mano quindi a tutte queste persone a cui è stato chiesto di farsi carico di responsabilità perché noi riteniamo io lo ritengo come cittadino io ritengo che noi siamo veramente a un bivio un bivio sul quale dal quale poi non si può più tornare indietro o questa città affonda in maniera irrimediata oppure questa città può iniziare un lento ma graduale recupero per fare questo noi abbiamo la necessità di costruire perché si parla tanto di candidati ma dobbiamo parlare anche di proposte dobbiamo parlare anche di programmi noi abbiamo presentato dottor Abate lei si ricorderà quella manifestazione può dire anche Luigi siamo stati siamo stati io ero commissario di circoscrizione e tu eri assessore io cerco di mantenere di rispettare il ruolo se tu me lo se tu me lo se tu me lo autorizzi ci diamo del tutto ma siamo tutti amici ci diamo del tutto sono ben contento di darti del tutto quando tu eri assessore al decentramento io ero commissario di circoscrizione perfetto allora Luigi tu ricorderai la manifestazione che abbiamo fatto alla sede universitaria a novembre che erano Taranto progetta Taranto 11 idee per questa città noi con quell'iniziativa non perché è presente uno del PD e uno di forse grazie noi abbiamo presentato quell'iniziativa e l'abbiamo voluta fortemente e soprattutto sono intervenuti esperti di ogni materia che è stata presentata perché volevamo dare ecco volevamo cogliere da parte di queste persone esperte suggerimenti e idee di cosa fare eventualmente noi dovessimo andare al governo di questa città per Taranto perché se noi non immaginiamo un progetto se noi non decidiamo cosa vogliamo fare della nostra città ma senza fare programmi programmi farraonici che poi alla fine si concludono in nulla di fatto ma individuando pochi punti cruciali per lo sviluppo di questa città e portarli avanti con competenza noi abbiamo necessità di competenza io guardo di buon occhio tutti coloro i quali vogliono impegnarsi però io dico che alla fine i cittadini devono anche assumersi la loro responsabilità è premiare le persone competenti che possono dare un risultato che possono portare a dare un contributo utile che poi i temi sono importanti il porto il rapporto con la grande industria che verrà adesso per cui dobbiamo sederci al tavolo con la nuova proprietà e ragionare su che cosa loro effettivamente vogliono fare qua il porto che diventa adesso centrale perché c'è la possibilità di diversificare le attività portuali e quindi avere un'interlocuzione con i responsabili del porto perché possa diventare volano per questa città l'università noi dobbiamo pretenderla l'università le infrastrutture noi dobbiamo pretendere le infrastrutture perché se è vero che siamo città strategica per il governo l'hanno detto loro noi siamo città strategica quando c'è stata la questione dell'ILVA che hanno giustificato con 11 decreti per non chiuderla se è vero questo loro ci devono mettere delle condizioni affinché noi diventiamo effettivamente una città importante Ricci l'avevamo saltata allora lei come operatore commerciale ha fatto tante battaglie ha denunciato tanti casi di improvvisazione amministrativa di illegalità il suo progetto per Taranto cioè come disegnerebbe Taranto abbiamo visto certe manifestazioni che dovevano essere mercatini di Natale sono diventate le peggiori sagre del panzerotto e della salsiccia arrostita tanta diciamocelo improvvisazione e dilettantismo amministrativo va ridisegnata Taranto per progetti e obiettivi sì sicuramente questo vabbè tu avrai eseguito le battaglie che ho fatto abbiamo fatto insieme giornalisticamente e come rappresentante lei di Casatigiani volevo prima dire una piccola cosa il complimento che aveva fatto il signore alla Lucarella al signore di Forza Italia se ci fosse stato secondo me questa intesa all'interno del Comune forse non stavamo in queste condizioni perché credo che al giorno d'oggi invece di creare opposizione bisognerebbe creare per Taranto un gruppo dove veramente dialogare in maniera molto tranquilla per il futuro ed è quello per cui noi Casatigiani come tutti gli altri colleghi di associazioni abbiamo sempre ribadito la mancanza di dialogo nei confronti del cittadino nei confronti del commerciante che rappresenta il 70% della vita di Taranto nei confronti di tutti coloro che si impegnano giornalmente per la nostra città la mancanza totale di dialogo quindi se ci fossero state prima queste queste belle parole questa bella intesa sicuramente oggi non staremmo così poi per quanto riguarda il mazzarismo in questo caso Forza Italia ma qui a Taranto non c'era proprio nessun patto magari ci fosse stato un patto è solo questione di stima delle persone e degli uomini esatto solo questo poi per quanto riguarda come vedo Taranto io vedo Taranto sicuramente come ha detto l'amico di Forza Italia Nicola abbiamo tante meraviglie il porto però ovvio che ci sono tante altre realtà che dobbiamo essere pronti ad accogliere il turismo che comunque sia sta arrivando io essendo operatore essendo un commerciante e avendo un'attività proprio in piazza in Amacolata già lo scorso anno ho avuto un grande riscontro turistico quest'anno ce ne sarà ancora di più e io mi chiedo ma siamo pronti ad accogliere questi turisti come vogliamo accoglierli dove dobbiamo mandarli cosa dobbiamo farli visitare nella nostra città o devono scendere dalle navi e andare così allo sbando devono entrare in questa città e andare così con i punti interrogativi chiedendo alle persone quindi tante cose che sono importanti strutturare poi in questo periodo ho sentito parlare di programmi di progetti per Taranto un po' come se fossero dei cartoni animati anche io sognerei Disneyland al posto dell'Iva però bisogna parlare di cose reali e concrete quindi parlare di progetti che si possono realmente creare senza dire fantasie quindi mettersi a un tavolo tutti insieme persone competenti perché sarebbe credo anche opportuno creare un comune di competenze quindi avere un esempio come assessore all'urbanistica un ingegnere urbanistico come assessore alla sanità o medico cose normali che dovrebbero essere logiche i tecnici i tecnici quando invece non è così quindi che si accontenta l'amico dell'amico perché io divento sindaco e devo sistemare dove ti devo mettere ti metto assessore alla cultura ti metto assessore all'urbanistica e poi non hai la competenza purtroppo non può essere più così perché forse la gente è un po' fuori dalla realtà noi che viviamo giornalmente tanto e il commercio non è messo bene si devono rendere conto tutti quanti che ci sono delle difficoltà serie ma davvero serie dottor Varlano un attimo solo vorrei intervenire su quello che ha detto lui poi dobbiamo c'è un piccolo break innanzitutto il porto è stato gestito in maniera veramente da caro perché insomma io credo che è ancora attuale l'amministrazione che ha fatto fuggire Evergreen si sono persi un sacco di posti di lavoro ma questo può essere esteso dappertutto il problema che volevo affrontare io che ci tengo a dirlo affrontarlo come medico visto che ognuno sta sta impersonando il proprio lavoro io credo che a Taranto il partito della diossina il PD che io chiamo partito della diossina ha provocato dando via libera puoi anche evitare no beh mi sembra logico offendi la tua intelligente lo sa perché lo sa scusa sai perché ti offendi da solo perché è un'offesa per dire partito della diossina è come Pupazio è la stessa cosa Pupazio si riferiva a Stefano scusa ti prego scusa moderiamo il termine perché il partito della diossina attribuisce a te a me sembra proprio per contesia lo attribuisce a te io sto mordendo io sto mordendomi la lingua per non dire cose molto peggiori non dire cose peggiori ma neanche me il signore non sa che ti chiedo scusa evitiamo queste cose non sono più è finito il tempo per voi è scaduto perché io dico una cosa guarda se fossi voi se fossi voi che avete appoggiato questo sindaco che è veramente da mandare a casa a calci il culo secondo me in senso metaforico metaforico è sempre metaforico e metafvero io credo che a un certo punto è una città affrontata dal punto di vista medico che è strapiena di tumori io noi operiamo ogni giorno ginecologia e chirurgia quintali e quintali di tumori dove non c'è un registro esatto della percentuale e dove è impossibile continuare con questa mancanza di politica io non sono d'accordo con voi che ci vuole la società civile a dirigere Taranto no secondo me questo è un momento in cui la politica deve rivolgersi a se stessa ci sono i politici all'altezza no assolutamente se non c'è il politico c'è qualcuno secondo me all'altezza ma i loro signori non saranno d'accordo chi è troppo presto per fare un nome io credo che tutti questi personaggi che sono usciti come in ogni elezione sono pronti a essere bruciati subito infatti sono stati bruciati già tanti nomi allora non posso pensare che un fornaro a cui hanno bruciato le pecore diventi paladino dei verdi una una cosa baldassarre c'è poi c'è una bella ecco questa è la cosa principale c'è un concetto no che se uno è avvocato giudice o direttore delle carceri debba sapere amministrare per forza bene la città questa è una cosa ridicola ridicola vogliamo trasformarla in Guantalamo questa città vogliamo essere persecutori fino all'ennesima potenza non è di questo che ha bisogno sono uomini di legge sono uomini che conoscono la pubblica amministrazione quindi parliamo con un uomo di legge che io parliamo di persone capaci e persone prescindere da quello che fanno come attività professionali io parlavo con un uomo di legge che il dottor Morelli il giudice Morelli che voi conoscete benissimo ex presidente che è una persona eletta mi dicono perché io sono mancato da tanato diversi anni non si candida Morelli no? perché tutti i magistrati in pensione si candida si esatto Brandi Marte con l'esempio incredibile che ha dato Stefano candidando velocemente Brandi Marte che ricorda molto la scoperta della statua farlocca che hanno trovato a San Vito che ha dato prima l'annuncio e poi l'ha fatta vedere alle belle arti la stessa cosa ha fatto politicamente con Brandi Marte dottor Giuseppe Lessa candidato sindaco i suoi programmi per tanto voleva intanto mi pare sì sì io volevo prima precisare alcune cose indubbiamente io penso come gli amici che hanno parlato prima che la gestione di questo 12-15 non è stata la migliore anzi ha peccato molto ha peccato molto ma non io la colpa la do soprattutto al sindaco ho voluto fare una politica solitaria una politica di soli io penso che poter portare avanti una città il sindaco e tutta la struttura tecnica della prestazione comunale deve collaborare con le forze sociali e civili della città non è possibile portare avanti una comunità senza interlocuire con la situazione di categorie con i sindacati sono fondamentali perché loro sono quelli che danno le idee io vedo il comune come la macchina che deve seguire le idee migliori proposte dalla situazione di categoria così si ottengono più risultati io avevo pregato ho cercato di mettere insieme un po' non dico i politici ma anche le persone perché ritengo che è tardo bisogna per un anno per due anni per un breve dilasso di tempo di avere la massima concentrazione di sforzi tutti quanti per portare benefici alla città parlo di finanziamenti parlo di idee parlo di programmi parlo di progettazione perché sono convinto che se tutti quanti lavoressimo sotto l'unica bandiera rosso-blu sicuramente avremmo dei risultati migliori più forti il programma il programma è vasto perché voglio dire è stato un po' abbandonato quindi c'è di riprendere tutto da zero come direttore ha fatto molte iniziative nel sociale lo sport cioè far sì che il cittadino viva la vita da cittadino partecipa certo per quel poco che ho potuto fare perché chiaramente il mio è un piccolo head non è che è un grosso head che ha più grosse capacità finanziaria ed economica per quel poco che ho potuto fare sicuramente mi sono andato da fare a risolvere e a fare alcune manifestazioni che potessero portare beneficio soprattutto lo sport diciamo lo sport è fondamentale per i giovani perché se lo sport venisse seguito veramente dalla gioventù tarantina sicuramente la gioventù tarantina avrebbe un animo migliore i valori un valore migliore un valore migliore dello sport però cerchiamo un pochettino abbiamo cercato comunque di lavorare anche negli altri settori nel turismo adesso per esempio stiamo gestendo stiamo cercando di portare alla luce una delle bellezze della città di Taranto del Cecolo Vaccarella è un sogno che stavo portato avanti da un anno riportare alla ribada la più bella masseria di Taranto dove veramente era il centro in cui tutta la città di Taranto che tutta la città di Taranto frequentava è nata come circolo all'epoca di Talcider pur è diventato centro di incontro sociale della città di Taranto chiaramente l'intento nostro è quello di riportare quella struttura a quei livelli dare possibilità di dare un po' di lavoro a un po' di gente pur tenendo presente che tutte le manifestazioni che si trattano in quella struttura saranno fatte con un occhio di riguardo a quelli che sono i lavoratori metallo e mercati e i strutturi dell'Ace ma questa è una delle tante cose perché bisogna farle più che parlare bisogna essere molto concreti il programma secondo me il programma secondo me è fondamentale perché a Taranto dobbiamo ricominciare da zero io penso che dobbiamo ricominciare dalla gente soprattutto dall'occupazione trovare un pochettino cercare di fare un pochettino di sviluppo e portare un po' di occupazione in questa città perché la disoccupazione è proprio il progresso che ci sia ok incombono gli obblighi pubblicitari a tra poco rieccoci in studio pardon in Casa La Manna BB Albergo La Manna San Vito Taranto ci sta ospitando vedete queste prelibatezze non vediamo l'ora di finire la trasmissione per poter degustare questi aperitivi vedo Catania particolarmente affamato ma l'ora giustifica questo questo appetito Tommy Luccarella Taranto l'area ionica una realtà io dico bella e maledetta perché da un lato abbiamo delle potenzialità enormi però poi rimaniamo come dire bloccati paralizzati perché poi abbiamo l'aeroporto che l'aeroporto non vola perché chiaramente i baresi e i leccesi e i brindisini devono fare i comodi propri e quindi guai se partissero i voli civili dall'arlotta piuttosto l'arlotta servirà per così per i droni penso al patrimonio turistico al patrimonio storico alle potenzialità turistiche tutto per esplodere per far sì che Taranto veramente possa essere una realtà rigogliosa passatemi questa espressione però noi alla fine dobbiamo sempre essere schiavi dell'Ilva schiavi dell'Eni schiavi della grande industria schiavi di noi stessi e beccarci tra noi come i famosi capponi di Renzo nei promessi esporsi potenzialità enormi però potenzialità che rimangono inespresse e ci viene rabbia perché uno dice caspita c'ho questo ben di Dio e non lo utilizzo forse sarebbe meglio non averlo proprio io parto vi dirò una cosa che mi sembra detto Ricci senti noi nelle prossime nei prossimi mesi avremo la possibilità di avere qui delle navi da crociere io penso che la città di Taranto al di là dell'amministrazione comunale che deve secondo me garantire tutti i servizi meno male così non ci avvieremo più tra di noi tra virgolette perché siamo persone educate poi tra l'altro anche se ci sono dei confronti giusto a farle ci mancherebbe io devo fare audience bene però al di là appunto di quelle che sono le amministrazioni comunali io penso che la città di Taranto deve essere pronta deve essere pronta ad affrontare questa nuova venuta questa nuova possibilità di lavoro questa nuova possibilità di espansione del commercio delle viste turistiche da parte di alcuni turisti che arriveranno che certamente non saranno pochi perché chi ha fatto delle crociere certamente sa che sono come minimo dalle 1000 alle 2000 persone che si muovono in ogni nave che arriverà a Taranto da questo punto di vista la città di Taranto deve essere pronta per quanto riguarda i bus per quanto riguarda le trasferte per quanto riguarda gli itinerari turistici per mettere a punto quella che è la macchina del turismo per far sì che quando arriva qualcuno dalle altre nazioni arriva questa nave qua per esempio che arriva di domenica non ci devono essere i negozi chiusi perché la prossima volta e tantomeno ci dobbiamo sentir dire dal sindaco la domenica noi non svuotiamo i cassonetti perché tanto a Taranto non viene nessuno la domenica potete tenere i cassonetti e invece avremo la scusa per poterli svuotare che ha un'attività commerciale cosa deve fare deve vendere pizze e panzerotti con i cassonetti e avere il cassonetto pieno di fronte però Lucarella voi l'avete appoggiato questo sistema accelerato superiamo questi argomenti perché giustamente adesso stiamo andando al volgersi verso gli ultimi mesi al tramonto grazie dell'amministrazione comunale adesso dobbiamo soltanto guardare come dice Nicola a ragione al di là delle candidature a sindaco benvenga anche la candidatura di Irene Lamanna diciamo non si candida ma benvenga anche diciamo una candidatura non dalla società civile una candidatura che viene dalla società perché non riesco mai a capire perché chi è che fa politica non è società civile e chi è che non la fa è diventata società civile dalla società perché tutti quanti viviamo in questa società tutti quanti vogliamo il bene di questa comunità ionica tutti quanti vogliono che la città deve guardare ad un nuovo futuro questa amministrazione comunale sta andando alla fine io penso che i nuovi amministratori chiunque sia la guida di questa città deve avere hai detto bene un rapporto sereno proficuo con tutte le associazioni con tutte le categorie ad iniziare dal sindacato dai cittadini camminare per la strada cioè tutto quello che un sindaco deve fare in maniera forse diversa o in maniera come vogliono i cittadini della città e dice bene Nicola adesso le candidature hanno un peso le candidature rifanno i partiti che siano di civili o tra virgolette incivili ma dobbiamo offrire alla città un nuovo programma fatto da pochissime pagine dove si può partire condivido il dottore dai dossi e dai fossi dall'eliminazione di queste cose qui perché chiaramente sono nocivi per tante persone al costruire una visione di città diversa e che guardi a questioni diverse che guardi che dia prospettive ai giovani che dia prospettive a chi non vuole più sentirsi parlare dell'ILVA ma per togliere l'ILVA come tu dicevi e non voglio appunto replicare in maniera negativa anzi in positivo al dottor Vallaro dobbiamo e quindi per eliminare tutti i fattori che portano alla diossina fin anche l'ILVA abbiamo bisogno di creare alternative tutti insieme che sia una economia diversa certo che sistemare 12, 15, 20 mila persone è difficilissimo noi dobbiamo intraprendere questo percorso qui parallelo che ci porterà pian piano ad eliminare forse non l'acciaieria di tanto l'acciaieria del mondo una delle più grosse acciaierie del mondo poi chiaramente io dico chiaramente tentando di condividere ambiente e il lavoro che non è facile però siamo d'accordo Lucarella però questa storia favoletta per me l'ILVA va chiusa senza misericordia senza se senza ma però perché perché dico questo perché quando abbiamo cercato di contemperare 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 diciamoci la verità non è come la Germania in Germania convivono le due realtà e c'è inquinamento zero impatto inquinante zero qui invece arriviamo a 10 decreti e vedete quello che succede in ILVA cioè è inutile che giriamo alla fine uno dice vabbè ma però Luigi cosa dobbiamo fare in altre nazioni convive perfettamente la grande industria con la società civile con la città perché in Italia questo non è possibile non lo vogliono fare allora indubbiamente guarda io parlando con i miei amici io sono pronto a organizzare perché oggi per ottenere le cose dal governo bisogna fare un po' di cacciare vedi i tassisti vedi le altre categorie adesso gli ultimi hanno fatto le donne le donne hanno fatto il sciopero ottenere i loro risultati bisogna fare un po' di cacciare allora il governo quando vede un po' di cacciare si deligna e cerca di soddisfare quali sono le richieste e le esigenze di quel gruppo di persone io sono pronto ma lo dico dico io ma sicuramente anche gli altri a portare ogni 15 giorni tra l'altro quando andrà Pulma a Roma a far cacciare lo Stato si deve muovere non è possibile che 300.000 persone vivano sotto il rischio del tumore non è possibile qualche d'unico o le offerte sono così fatte bene che possono garantire promettere e garantire che l'ambientalizzazione avvenga o deve farlo stare perché noi non possiamo morire per l'inerzia del nostro governo quindi io sono pronto a fare la battaglia a fare la famosa cacciare diciamo sotto il palazzo del governo affinché qualche d'unico si muove presto a risolvere questo problema Per fare questo che ovviamente condivido però torniamo al discorso di prima cioè qual è il rapporto che si deve creare con la nuova proprietà dell'ILVA perché questo punto è cruciale nel momento in cui presenteranno e stanno presentando i piani industriali ed ambientali quindi ovviamente tutto bello tutto tutto in ordine e tutto fantastico ci dovrà essere però qualcuno sul territorio e quindi parlavamo della competenza che possa poi marcare stretto controllare perché poi signori diciamocela tutta la situazione in cui viviamo noi Luigi io capisco la rabbia come cittadini di dover dire che non ne possiamo più e ormai in tutte le famiglie viviamo questo dramma chi più chi meno però dobbiamo fare poi conti con la realtà Taranto è nata negli anni 60 e ha sviluppato una monocultura industriale che ci ha caratterizzati per decenni sulla grande industria sull'industria pesante adesso riconvertire ex nuvo e passare così improvvisamente a alternative di carattere voglio dire economico che possano prescindere la grande industria diventa veramente complicato immaginarlo così in maniera sic e sempliciter assolutamente e allora complicato ma non impossibile e allora il governo deve valutare i piani industriali e ambientali nel momento in cui è stato approvato e c'è chi si aggiudica lo stabilimento è compito e in questo caso sono d'accordo con l'essa è compito poi della politica locale andare a individuare le diciamo i punti deboli e quindi poi imporre la città si impone questo sì che noi possiamo fare e questo dobbiamo fare noi ci dobbiamo imporre affinché si possa coniugare lavoro e ambiente è possibile si può fare dopodiché poi una volta fatto questo possiamo differenziare ed è questo condivido con l'essa differenziare poi le nostre attività la nostra economia in maniera tale che possiamo poi anche sganciarci un domani sempre di più da questa sudditanza di questa industria pesante questo è quello che io vedo nell'immediato dire altro dire altro è sicuramente demagogia è sicuramente aprire il libro dei sogni è sicuramente mettere una città economicamente socialmente in ginocchio allora qua ecco qua ci vuole il sindaco qua ci vuole un sindaco forte capace con tanta volontà chiaramente collaborato a tutti tutta quella struttura diciamo dell'amministrazione comunale per esempio io una cosa che non posso più sopportare è l'Eni cioè parliamo di turismo va bene che è una delle cose che l'Italanto può avere e può fare per la città per noi per i nostri giovani come me tu vieni dalla 106 e senti quella puzza il biglietto a visitare è la puzza che l'Eni rimette chi viene dalla 106 non è possibile l'Eni in altre situazioni in altre località contribuisce finanziariamente non solo non fa la puzza le royalties perfetto contribuisce finanziariamente a potenza e a materia l'Eni dà una carta di credito dove ogni mese a tutti i patentati vengono accreditati ora non è una questione dei soldi delle 80 100 euro di benzina che l'Eni dà è l'iniziativa ma per lo meno non dico i soldi ma a meno eliminare quello scempio che noi abbiamo quando siamo in città veramente è una cosa è una cosa insopportabile questa è una delle battaglie che per esempio un buon sindaco forte deve farlo dovrebbe deve farlo Ricci lei è un imprenditore che è ritornato a Taranto però ci troviamo in una realtà particolare perché abbiamo parlato di questa grande industria che diciamo ce l'inquine quindi comunque preclude sviluppo turistico poi assistiamo a una illegalità diffusa penso all'abusivismo penso a una invivibilità urbana vera e propria ma come si può continuare a fare impresa a Taranto molto difficile molto difficile l'illegalità penso al discorso dei parcheggiatori abusivi non ho nulla contro quei poveri ragazzi però signori cari qui a Taranto siamo arrivati al punto che boh non so gli ausiliari del traffico da una certa ora non si vedono più e si vedono solo abusivi nel pomeriggio nelle zone centrali poi ci sono zone di Taranto penso via Temeni dei via Mazzini che sembrano Chinatown sembrano marciapiedi completamente invasi poi se Ricci o chi per dico Ricci per fare un nome mette un tavolino ecco che in quel momento si stanga il povero Cristo il commerciante il fesso che che paga e che magari ha sbagliato perché ha messo qualche centimetro ha usato il suolo pubblico per qualche centimetro in più insomma qui non bisogna farsi forti con i deboli e deboli con i forti tu parli proprio di illegalità con me che magari sono anche un rappresentante di Casa Artigiani appunto per questo ho fatto la domanda la mia presidentessa mi mani chiarico ha inaugurato pochi giorni fa lo sportello antiracket quindi noi siamo combattiamo attivamente l'illegalità che purtroppo rimane uno dei uno degli ulteriori cancri di tanto fare impresa con con tante illegalità non è facile normale però non c'è alternativa perché ti trovi di fronte ad avere un'amministrazione comunale assente e comunque sia il cittadino il commerciante che vuole fare vuole produrre vuole provare il giovane che pur di non andarsene a Taranto vuole restare e investire cosa devi fare ti trovi comunque sia a combattere contro questa realtà e purtroppo ti capita di vedere anche l'assenza dell'amministrazione che sicuramente non non ti aiuta non ti agevola in uno sviluppo commerciale quello che dovrebbe essere logica però così non è ecco però ricci si pongono anche determinati aspetti in altre città è diverso il quadro lei le ha vissute non ci vuole tanto a ripristinare l'ordine assolutamente no allora a un certo punto io dico scusatemi qualcuno si scandalizza ben venga il sindaco sceriffo è questo che sicuramente è un'esagerazione dell'espressione sceriffo un sindaco decisionista sicuramente a Taranto serve un sindaco che sia uomo o donna non importa però un sindaco di polso con gli attributi con gli attributi diciamolo perché comunque sia a Taranto ha delle realtà che vanno colmate tu mi dicevi hai vissuto altre città sì ho vissuto altre città e il discorso proprio di vedere cose assurde a Taranto non è un caso però bisogna farci perché stanno crescendo questi casi di abusivismo commerciale parcheggio e comediabello perché chiaramente la politica di questi inguiani ha distrutto l'occupazione e questi qualche cosa la devono fare mettiamoci un attimino questi il pane a casa lo devono portare se noi invece cerchiamo ma comunque questo non si può giustificare se noi invece implementiamo la crescita economica di aziende di piccole attività commerciali piccole attività regionali come? levando la burocrazia innanzitutto perché io vedo un po' un ragazzo che ha mezzo idea di aprire la cartoleria non sa dove andare non sa cosa fare non sa dove andare deve passare dalle griffie in tanti uffici deve avere licenze cioè permettete voglio rifare la Berlusconi maniera ha intenzione di aprire fammi una comunicazione apri i documenti mi li devo a sé messi va bene? negli amo ma non solo questo secondo me l'administrazione comunale dovrebbe dare dei contributi a chi ha la possibilità e la voglia di fare qualche cosa come abbiamo fatto in passato a città vecchia quando con quel finanziamento del demo se non sbaglio 50 milioni bisogna incentivare non dico 50 milioni bisogna incentivare ma dare una mano anche di natura che no anzi c'è di più se queste persone che vogliono fare qualche cosa assumono una persona dare un altro contributo allora queste sono quelle piccole cose attuali e veloci che un monsintico deve fare la possibilità di riaprire le salle cinesche ridurre le tasse a dieci anni fa quando aumentavano dal 100% bisogna ridurre dal 50% le tasse perché avere la città illuminata avere insegne e anche quella è una spessuale la pubblicità della città quest'anno abbiamo visto c'è poco tempo questo sarebbe da dire tantissimo sarebbe da dire questo è il centro un centro morto non è possibile ma perché ma perché non lo ricordo perché la tassa della pubblicità costa tantissimo allora il commerciale non lo dico a me sono d'accordo il commerciale potrebbe risparmiare 200-300 euro se non risparmiare insegna piccolo la spegne prova rieccoci mentre durante il break si parlava molte volte l'amministrazione comunale non sa se un tratto di strada è di propria competenza o è di competenza della provincia chi lo sa Varlaro abbiamo parlato lei ha parlato tanto di invivibilità urbana però mi è rimasta in gola anzi in mente la domanda cosa è successo tra lei e 5 stelle lei si era vedeva con simpatia i 5 stelle e poi cosa è successo con Salvini non che per carità non è che uno vuol sapere i fatti sui però no per capire come si muovono queste formazioni che vogliono apparire nuove però di nuovo hanno ben poco quanto mi perdoni io ho invitato anche i 5 stelle sa qual è la risposta che mi sento dire dai 5 stelle che praticamente possono venire solo i portavoce ossia gli eletti ossia Rosa D'Amato e il consigliere regionale il consigliere regionale e poi il consigliere regionale Laricchia o altri e poi il nostro anche consigliere di Ginosa consigliere pentastellato di Ginosa non che il sindaco insomma coloro i quali hanno un ruolo istituzionale i meet up le rappresentanze locali sol perché non sono eletti non possono partecipare non possono partecipare diceva Alessa ok è il loro modo di essere trasparenti va bene allora Varlano si che poi lei sbaglia a dire che deve invitare i 5 stelle no no io li invito li invito tutti a Taranto dovrebbe invitare i 15 stelle 3 per 5 i 3 meet up è certo perché si sono divisi in 3 la storia è molto semplice la D'Amato cercava di perversare su tutto il meet up ha inglobato i liberi pensanti che sono dei personaggi le devo aggiustare il microfono Varlano altrimenti non si sente più guardate avete un conduttore che fa anche da tecnico perché i tecnici per carità sono già impegnati con l'audio e altro il discorso è questo che hanno inglobato i liberi e pensanti persone devo dire io come osservatore esterno ma non li vedo assolutamente politici e vedo anche anzi una classe sociale di di sinistra molto dei centri sociali e via dicendo basta guardare l'organizzazione del primo maggio del concertone ci sono tante cose da poter dire a proposito quindi sono ha inglobato i liberi e pensanti i liberi e pensanti hanno fagocitato l'adamato per cui l'adamato ha preso le distanze l'adamato voleva suonare ed è stata suonata è stata suonata in maniera proprio fantastica e adesso si sono scissi in tre l'adamato è spuntato un altro di grottaglie tale è bello certo non si sa se Nevoli l'avvocato Nevoli ecco parlavo degli avvocati giudici carcerieri carcerari e tutti i resti direttori di carcere spendiamo una parola per l'avvocato Nevoli peraltro il mio legale penalista è una persona squisita è anche il mio è una persona squisita ma il come viene proposto tutto quanto io ho frequentato ho un percorso mio di conoscenza e di voler capire le cose per cui sono andato siccome io vedo bene non metta la mano vicino la devo la devo redarguire guardare un conduttore che aggiusta il microfono e che non ha intenzione di fare il sindaco come altri conduttori io per ora non ho intenzione sempre fino alla chiusura delle liste ci può essere qualche possibilità un procedimento mentale che mi porta a conoscere le cose che devo poi rifiutare e siccome io credo che siamo in ritardo di 25 anni ad aver bisognava fare sicuramente un colpo di spugna con questi governi che ci sono avevo capito colpo di stato perché le sue intenzioni le vedo benicolose colpo di spugna io credo che a questo punto non basti neanche più il colpo di spugna per l'Italia ma ci vuole la bomba atomica ma in senso metaforico se no qui ci arrestano non abbiamo la bomba atomica per cui e dobbiamo andare in Coria ho frequentato i grillini per circa 5-6 mesi e da cui me ne sono scappato a gambe elevate perché ho visto l'inadeguatezza mi sembrava di essere ritornati ai collettivi del 69 dove tutti parlano e c'è una bella frase di Enzo Biagi che in questa in questa democrazia tutti possono dire tutto ma tanto non si viene ascoltati questo è andiamo ai rapporti con Salvini Salvini è stata una cosa in cui già credevo di più perché avendo vissuto tanti anni al nord a 36 anni 10 a Bologna e 26 a Pordenone e mi sono stancato anche di dirlo chi gliel'ha fatta fare di tornare a Taranto eh lo so è stato non un errore a me piace vivere a Taranto perché Taranto è nel mio cuore quindi e se mi mi spendo politicamente è proprio per quello ho cercato di di capire e di portare quello che di buono della Lega c'era perché c'è qualcosa chiaramente una forza politica per esistere sicuramente è qualcosa di buono il problema è stato questo che durante io l'ho avuto un anno e mezzo sono stato il coordinatore per Taranto ci sono stati grossi problemi di coordinamento in quanto il coordinatore regionale Sasso Sasso è un a mio parere un inetto e la stessa cosa di Angelo Gianfrate di Martina Franca penso che sia conosciuto da tutti stasera ci stiamo facendo molti amici più di quanti ne avevo molti di amici stasera aumentano le dico perché succede perché molti gruppi della Puglia sono stati chiusi da Sasso perché si sono ribellati a un coordinamento sono stati presi a Sasso sono stati a un coordinamento inesistente a questo dobbiamo aggiungere quando io inaugurei la sede a Taranto venne l'onorevole Volpi che è quello che deve intendere al meridione e a tavola ci fece un paneggirico contro i meridionali addirittura sì sì è una cosa impressionante per cui una cosa tutta Tarantina io che sono stato fra i promotori del dissenso contro Sasso contro questa mancanza di coordinamento totale che peraltro non è solo nostro ma è di Fratelli d'Italia Forza Italia della destra in genere io mi sono opposto e mi hanno scritto una bella letterina dove mi sono veniva rimosto senza nessuna motivazione questo è stato però mi faccio concludere io credo che a Salvini del meridione glielo freghi proprio niente ma se vuole prendere i voti al sud non può venire a offendere i meridionali certamente come ha fatto e sopra ecco domani sabato è a Napoli comunque sì e questo è il messaggio che voglio mandare per cui qual è il migliore dei mondi possibili oggi in politica so che il cuore batte verso a T6 il suo cuore certo perché guardi io penso una cosa che di Cito è stato detto tutto e di più ha avuto guai giudiziari e poi sappiamo come la magistratura lui è andato in galera anche la sappiamo anche come la magistratura agisce perché è sotto gli occhi di tutti adesso stanno attaccando il PD e il padre di Renzi e tutto il resto perché il fango la macchina del fango viene prodotta soprattutto dalla magistratura e a un certo punto io credo che la cosa ci stiamo facendo altri amici magistrati io per esempio se vuole sapere quello che penso sui magistrati io glielo posso dire tranquillamente mi eviti qualche querela di troppo alla prossima puntata allora io che stavamo dicendo della AT6 che Cito sia stato un buon sindaco per Taranto chi dice il contrario sicuramente per me è stato il miglior sindaco di Taranto con tutti i limiti con le tante con i tanti errori stupidi che ha fatto e che poteva risparmiare però la Cito era vivibile ci vuole un Cito riveduto corretto e colto e le dico una cosa che noi stiamo vivendo di ormai delle cose che ha fatto Cito di rendita di rendita enorme bene è tutto per questa puntata ringraziamo i nostri ospiti Tommy Lucarella segretario cittadino del PD di Taranto Tiziano Ricci rappresentante presidente della categoria alimentari di Casa Artigiani grazie a voi Nicola Catania coordinatore cittadino di Taranto di Forza Italia battitore libero il dottor Giuseppe Varlaro uomo di destra dottor Giuseppe Lessa candidato sindaco beh avete visto una puntata abbastanza vibrante una puntata accesa e il clima elettorale certo è che se il buongiorno si vede dal mattino è ancora notte fonda perché credetemi non si riescono le grosse coalizioni mi riferisco soprattutto al centro sinistra non riesce a trovare un candidato i 5 stelle che secondo me avevano l'occasione per andare per segnare un gol a porta vuota si stanno paralizzando davanti alla linea di porta che dire la fine del Paris Saint Germain ma lì c'è il Barcellona qui non è che ci sono non ci sono Neymar Suarez e Messi tutt'altro tutt'altro come rappresentanti politici l'appuntamento per venerdì prossimo stessa ora ore 21 stessi canali canale 93 del digitale terrestre viva la Puglia Channel e canale 879 Sky viva l'Italia Channel visibile in tutta Italia in tutta Europa in tutti in tutti i in tutti i in tutti i nord Africa e i paesi arabi così se l'onorevole Pelillo ha degli amici arabi che vogliono sentire le critiche che io muovo io do anche agli amici arabi di Pelillo questa opportunità ma non solo a Pelillo dico Pelillo che può avere degli amici arabi perché è uno degli onorevole allora per la Parcondiccio Chiarelli l'amico di Pelillo Vico la Briola Furfar esiste Furmari? chiediamo esiste Furmari bene alla prossima è tutto è tutto